eccoci buonasera a tutti allora aspetta aspettiamo che arrivi qualcuno allora sai cosa faccio io ti metto metto il cellulare su bridges così vedo anche i commenti e chi li dice eccoci buonasera ragazzi benvenuti a tutti siamo qui su bridges of light per un'altra fantastica diretta questa sera sono felicissima di presentarvi gerardo la fratta per chi non lo conosce ma sicuramente tanti di voi lo conosceranno già come stai gerardo buonasera ciao grazie che mi ha invitato in questa diretta ovviamente non mi espongo più di tanto perché con la tecnologia faccio i miei video però mi piace più la mazzetta lo scarpello che con la tecnologia immagino poi ci faremo i lavori dopo intanto cominciamo a fare una presentazione intanto salutiamo tutti ciao mirella ciao roberta e maria ciao daisy mirella eh roberta ma ciao sarà e buonasera al tuo ospite moni claudia eh mirella gerardo benvenuto oh margherita ciao margherita come stai francesca buonasera ben trovati benvenuto mirella eh roberta io no ma sarà senza dubbio interessantissimo quindi roberta è la prima volta che ti vede ed è molto eh curiosa ciao Rosanna tesoro ciao che bello quante belle persone buonasera Tony che carini allora ci stanno tutti salutando sono tutti contenti di conoscerti oh grazie grazie del vostro saluto io io vedo te Sara quindi interagisco con te sì io poi ti leggo magari tutti i vari commenti ti dico chi mi ha scritti eh allora la bella novità di stasera dunque diciamo subito che Gerardo è un fantastico matemagico eh quindi lavori con i numeri e adesso ci spiegherai un po' di cose poi dopo eh vedremo un po' di sue sculture che sono veramente interessantissime culture sculture super spirituali e mh e poi la novità di stasera è che Gerardo si è reso disponibile per analizzare in diretta due tre persone insomma il tempo che ci sarà naturalmente disponibile analizzare nome e cognome quindi tenetevi pronte e pronti perché al momento che Gerardo dà il via partite e le prime due che si prenotano tac Gerardo gli fa eh l'analisi matematica giusto? Beh premetto che non sono né mago Thelma né mago Zurli è solo un punto di vista certo ok dove mi sono incontrato 14 anni fa e quindi per me è stato un amore a prima vista quindi immagina che a scuola in matematica ero un asino quindi il professore di matematica si chiama il cognome me lo ricordo si chiama Masinelli e lui era sempre incazzato eh quindi a me non passava nessuna informazione a scuola avevo solo un numero molto alto che era il 9 in francese wow bravo si lei era bella bionda mi ero innamorato immediatamente quindi sai le informazioni passano o col coppia in colla devi ripetere o se no con l'amore io mi ero innamorato della professoressa di francese e avevo l'unica materia alta era il nome di francese vedi però non faccio battute perché vabbè però insomma diciamo che la passione fa crescere la conoscenza e sì perché tu vibri come vibri vibri alto quando tu ti innamori vibri alto quindi entra nel senso qualsiasi cosa se sei innamorato di qualcosa eh sì allora dici raccontaci della tua passione dei numeri come è nata perché e cosa ti fa vibrare alto immagina che ho 58 anni quindi sono un artigiano e sono una persona capace nel mio lavoro quindi sono un saldatore professionista ok tu non so se conosci il quarto ponte di Calatrava a Venezia no Santiago con la trava è un'opera te la vai a vedere sono 720 tonnellate di ferro che parte da Piazzale Roma a dalla riva opposta io ho saldato i conci quindi sono saldature in qualità wow quando ho fatto quel lavoro siccome il ponte è un collegamento crea un collegamento tra due rive non a caso il pontefice è colui che porta poi le informazioni è un ponte diciamo che quel lavoro è stato iniziatico perché ho unito due rive un ponte ma non facevo nessuna ero un artigiano lavoravo punto la cosa fantastica prima di fare quel lavoro lì è che giravo l'Italia anche l'Argentina insomma ho girato il mondo col mio lavoro come professionista però ho preso due tre due tre legnate sui denti quindi ho fallito e ho fatto il depresso per tre anni consecutivi quindi ho perso tutto la manca ho ammazzato tutto che ha miseria però con due figli e una moglie ma no fa parte proprio della vita del maschile soprattutto perché si immagina che noi viviamo solo per lavorare quindi per pagare acqua luce gas certo la sintesi è che la nostra vita ha un valore un po' più alto che non solo pagare acqua luce gas quindi per capire questo valore devi capire il 4 il 13 il 22 perché il 4 rappresentava quella fatica e quindi devi morire quella fatica e rinascere a te stesso 4 13 22 sono delle tre anni che lavorano insieme a noi perché hanno degli automatismi come il nostro corpo ha degli automatismi quindi dopo questo lavoro comunque mi facevo qualche domanda e da lì ho iniziato il mio percorso il mio percorso di crescita perché avevo fallito quindi ero morto dovevo ricominciare da zero con due figlie e la moglie quindi le bambine erano molto piccole quindi quando mi guardavo allo specchio non era il massimo della felicità perché mi reputavo un fallito la cosa fantastica invece che è sempre la porta stretta che ti permetterà di crescere è sempre il momento di crisi che ti farà crescere quindi tutti questi tempi questi tempi io poi li ho capiti nei numeri perché poi ho fatto un incontro con un maestro d'arte numerologo il 27 marzo del 2008 e da lì è stato un incontro mi sono innamorato del maestro per come lui era creativo maestro d'arte non di vita d'arte per come lui era creativo e quindi la sua creatività ho visto un bambino di 70 anni che giocava wow bellissimo e lì mi sono innamorato di Leonardo Trabuio nel senso mi piaceva che uomo era ho detto da grande voglio essere così ok bellissimo e quindi ho iniziato il mio percorso lui faceva numerologia ermetica quindi era molto particolare era un destino 5 come me che magari tra un po' spiego è infatti ok quindi la forza è che ho visto un modello maschile bello molto interessante questo bello sì perché se a una certa età tu devi capire che uomo vuoi essere perché i primi 40 anni li viviamo solo per chiudere dei programmi del padre e della madre quindi è come dire il contadino quando lui semina sa già cosa raccoglie non ha dubbi sì quindi lui deve solo conoscere le quattro stagioni della terra perché quattro stagioni per tre mesi sono dodici e quindi devi capire quando seminare perché ogni volta che tu ti muovi col tuo modo di pensare stai seminando quindi devi seminare cosciente se no quello che semini raccogli certo e siccome noi siamo stati caricati dentro un dolore del padre e della madre perché il nostro nome è la massima veggenza che nostra madre ci fa cosa intendi dire? ma tu senti dei rumori sotto? sì sono i miei due cani che giocano non ti preoccupare è caduta una botina si è rotta qualche vaso è caduta la pianta no sono loro che si pestano un po' ok perfetto bene allora immagina che il nome che ci viene dato che poi per me è stata una scoperta quindi io non ho eccitato di più tu parlavi di PIN no? sì il PIN è la nostra data di nascita ah è la data ok però la sintesi è che la Rai nascita ha dodici movimenti come l'Odissea e il Labirinto come le dodici fatiche di Ercole come le dodici vergini come le dodici code del DNA ma è tutto un movimento nell'amore perché è dodici? perché è dodici? perché è uno? uno? vedi come lui è rigido l'uno? come è dritto l'uno? sì quello è il membro maschile il padre? il fallo? e il membro maschile il fallo deve penetrare il femminile? due? ah ok e quando l'uno l'uno quindi il membro la rigidità penetra semina ah wow fantastico bello visto così e quando lui semina quando lui semina viene chiamato spermatozoo però si chiama l'oceano in una goccia wow che bello quindi arriva dal profondo maschile generazione dopo generazione generazione dopo generazione ed entra nel profondo del femminile che bello è commovente questa cosa quindi immagina che lui quando semina penetra lei la madre farà due movimenti quindi uno il maschile semina due il femminile farà due movimenti perché il due il femminile è la bellezza assoluta è la creazione perché raccoglie il seme e fa il figlio fa due movimenti e la terra accoglie il seme fa l'albero che fa il frutto fa due movimenti quindi la somma dell'uno e del due del padre e della madre è tre questo è l'amore la creazione che bello è bellissimo però per capire il tre devi fare tre passaggi perché il tre è l'amore perfetto del padre e della madre ma il tre si deve evolvere nel dodici perché il dodici un corpo farà due corpi e siccome l'amore della vita l'amore della vita è il dodici il numero dodici l'amore della vita è il numero dodici per questo parlano i dodici discepoli tutto è nel dodici perché un corpo farà due corpi questa è la creazione la bellezza di questa dimensione perché la donna attraverso il seme maschile da un corpo farà due corpi farà il figlio ma che bello quindi avere in carico un dodici di nascita diventa incredibile se sai come funziona il progetto però siccome l'amore della vita è il dodici e c'è l'amore dell'universo che è il ventuno perché due misteri devono tornare ad essere uno wow perché se no sono separati tra di loro perché sono in conflitto col maschile o sono in conflitto col femminile ma in realtà non c'è niente lì fuori è tutto dentro di me vero e quindi se non porto armonia dentro di me gli altri sono lo specchio di me allora se capisci i progetti come funzionano diventa eccitante perché quando sei nell'esperienza devi incominciare a mettere in moto i due misferi e se sei insoddisfatta devi mettere in moto i due misferi ok perfetto quando è che mettiamo in moto i due misferi automaticamente quando io mi accarezzo con mia moglie e ho l'orgasmo quindi la parte più intima parlo del pimpirimpero è la mia divinità certo questa è la droga questa è la droga della vita adesso la stanno tagliando tagliando via ma quando il mio il mio pimpirimpero viene stimolato porta elettricità lungo la spina dorsale certo quindi devi aprire tutti i sette ranetti sbrondolo prendilo tiralo mollalo allaccialo ci sono le nostre le nostre ascoltatrici che stanno troppo ridendo sì perché ogni ogni porta che poi sono molte di più sono 12 con il avanti e il rietro insomma abbiamo più porte ma poi quando l'esplosione arriva l'energia da 15.000 volts parte da sotto perché l'elettricità scorre dentro la fibra ottica che la spina dorsale arriva dentro di un isferi loro si compenetrano c'è l'unione del maschile femminile per quei 15 secondi 30 secondi 21 secondi poi infine perché se no si brucia il sistema solo chi fa il tantra è capace di tenerlo in piedi 2-3 minuti eh sì quindi è come dire tutte le strade portano a Roma no? ma la domanda è ci vuoi andare tu a Roma? eh infatti ecco e come soprattutto ecco e quindi diventa interessante capire dei progetti perché ci sono degli automatismi che noi non abbiamo neanche minimamente idea però dal momento che sto leggendo i commenti scusa allora c'è una che dice Gerry Stabon è la Crizia Blanche poi c'è Arianna Martinelli che dice sei fantastico e ride la Claudia De Gasperi dice vive le porte viva le porte e i portoni brava perché l'unico senso della vita è l'esperienza non ci sono altri sensi e quindi siccome tu vieni qua per evolvere un albero e il tuo albero è rappresentato nel tuo cognome quello è un virus fantastica questa cosa che hai detto molto bella io come costellazione è genetica è genetica quindi c'è la imperia 150 anni 200 anni è genetica che sta muovendo perché se non so come funziona la mia genetica con i numeri posso avere un'idea però è solo un punto di vista però come dire dal momento che lo spermatozoo quindi lo ceno una goccia entra dentro il femminile lui deve cantare deve suonare se sono in risonanza lei apre e c'è l'amore c'è il concepimento certo tutte e due devono vibrare nella stessa situazione però lui quando entra dentro e lei sanno già cosa fare quindi devono creare gli organi i 12 organi principali quindi hanno una funzione non è che vengono qui vediamo come va quindi il sedere farà il sedere i denti faranno i denti gli occhi faranno gli occhi la pelle farà la pelle sono tutte famiglie organizzate non c'è nulla vediamo come va allora c'è una domanda aspetta eh te la leggo subito farà una domanda scomoda ma così si esclude una realtà non per tutti è così esistono individui che amano lo stesso sesso come lo spiega chi non genera nell'unione è un numero a metà ma lì dipende dipende da come lui ha visto la relazione del padre della madre perché se la madre è stata troppo maschile logicamente lui aveva il confitto col maschile quindi si sposterà nel femminile e Daniela una lei quindi se la madre è stata troppo maschile sì se la madre è stata troppo maschile il padre è femminile lì c'è un'inversione dei ruoli quindi è un casino è un casino è un'esperienza però sai in questi discorsi non è che ci entri molto in profondità in un'ora nel senso devi capire parlo per un punto di vista certo ci sono coppie che fanno figli due maschi e coppie che fanno figli e due femmine io ho due femmine quindi il pensiero per me come per mia moglie il problema era la madre e quindi io attraverso il modello magari troppo troppo impregnante o troppo troppo sai ovattatrice o l'abbandono e metto in moto delle dinamiche che con i numeri si possono vedere ma non c'è nessuna verità è solo un punto di vista ok perfetto tu immagina adesso no che l'uno giusto per dire qualcosa perché poi magari giro il foglio e possiamo capire però possiamo vedere capire un'altra cosa però quelle donne esempio che nascono l'uno gennaio dieci ottobre lì è tutto rapportato nel maschile uno uno quindi sono donne ma in realtà io sono tutti uni scusa io sono andata al dieci zero uno sono tutto un uno perfetto vedi uffa ma non sono tanto uomo però magari un po' sì no allora tu col fatto che poi ognuno ha il proprio dolore dentro e quindi comincia la ricerca di se stessi no certo ma tu che sei nata donna il tuo unico senso accogliere non è penetrare e sì certo ci sono donne invece che adesso guarda come sono cambiate l'uomo fa casa fa il badante lei fa il militare o la manager si sono invertite le posizioni per questo l'uomo è finito nel senso è in mezzo alla strada perché è rimasto incastrato con il calcio Marta Flavia e Marta Marzotto non si è più cercato è rimasto dentro la materia appunto sì quindi adesso che siamo nel 2000 2000 è tutto l'anno del femminile però il femminile ha copiato un'identità maschile quindi ha sbagliato identità ma tra l'altro scusa adesso mi stai facendo venire in mente tu parlavi del 21 no e adesso siamo nel 2021 quindi è interessante anche questo eh sì perché rappresenta la chiamata la rivoluzione bello 20-20 20 più 20 quanto fa? 40 quarantena ah wow interessante è la quarantena 20-20 ha tre passaggi 20-20 40 quindi 4 e poi c'è il 13 che parte in automatismo morire morire e poi c'è il 22 massima ispirazione quindi 4 13 22 adesso chi non si è cercato chi non ha cambiato il punto di vista rimarrà schiacciato dentro la materia perché questi questi benché sono dei criminali dal mio punto di vista però loro stanno facendo un gioco si chiama la cruna del lago la porta stretta ok è un'iniziazione la usavano anche gli egizi dentro le piramidi la porta stretta dovevi fare delle iniziazioni per svegliarti adesso sono persone che cioè pagheranno un prezzo perché immagina che a giugno ne rimangono a casa un milione di persone cosa faranno non si scatena la rivolta 20-21 la somma è 5 quindi la chiamata verso l'amore interiore però è solo un punto di vista ma deve accadere qualcosa perché non è possibile molto interessante siamo usati alla sintesi molto interessante quest'anno bello questa visione di quest'anno senti ci sono un po' di persone che ti stanno dicendo dunque alcune dicono che concordo alcune dicono non riesco a seguire tutto alcune cose mi perdo una ragazza dice chi è nato il 7-7 allora immagina che il giorno mese e anno che abbiamo in carico sono i compiti che avevano i nostri genitori quindi siccome questi genitori arrivano parlo per me che sono un 63 quindi mio padre ha visto la guerra ci sono dei debiti e dei crediti che noi dobbiamo sistemare sì sì beh questo certo chiaro a Gaetano scusate dopo vai avanti Gaetano dice io avevo due in matematica vabbè a me mi ha bocciato quindi eh infatti no allora stavi dicendo questa è matematica con l'emisfero destro non con l'emisfero finito perché dobbiamo stare nell'intuizione nella bellezza bravo bravo di fatto si sente si sente che sei nell'intuizione allora quindi stavamo dicendo stavi dicendo del 7-7 che allora l'eredità dei nostri genitori con la data di nascita ok lei che nasce il 7 esempio dico una sciocchezza però siccome 7 quindi bambina luglio è come dire era un casino la relazione del padre della madre quindi lei siccome nasce a luglio la profondità la bambina si sentiva sola dentro questa relazione se la faceva con i nonni perché il 7 rappresenta la saggezza la profondità quindi potrebbe essere più legata ai nonni che non ha i genitori ah wow interessante sì però il 7 che lei ha in carico come giorno di nascita perché lei deve risanare un debito che gli passa la madre e la nonna ah wow cavoli fantastico senti una persona dice e chi è nato il 21-12 pensate grande potenziale ma però esempio nascere il 12 rappresenta la bambina che deve nascere per aiutare la famiglia quindi sacrifici quindi se lei non capisce la deprogrammazione a che età viene messo in croce quel ragazzo 2021 anni fa 33 no sì bravo 33 quindi 3 più 3 quanto fa 6 adesso questa ragazza è 21-12 3 più 3 quanto fa ah già 6 perfetto anche qui c'è un 6 bravo se tu vedi la forma del 6 ha le gambe per aria la testa per terra è vero quindi la bambina l'unico senso della bambina è imparare a relazionarsi ma la relazione carpe diem se no tu rimani schiacciata dentro la relazione lei poi ha proprio difficoltà con la comunicazione dentro la relazione dipende poi quanti anni ha perché ci sono delle tappe dove noi dobbiamo svegliarci da un sistema e dobbiamo deprogrammarci perché esempio dai 0 ai 33 anni c'è viene chiamato il dolore no e quindi se non capiamo come funzioniamo perché noi abbiamo degli automatismi il nostro corpo arriva non so io parlo per me che ho 0 RH negativo tu che sangue hai Sara? AB più ok il 0 RH negativo arriva da 45.000 50.000 anni indietro così dicono ho letto anch'io cronaca vera quindi diventa interessante leggere questi argomenti qua ok perfetto però e sono i cacciatori il 0 RH negativo sono i cacciatori ma lì c'è una moltiplicazione del seme del maschile e del femminile che va indietro di 50.000 anni se parliamo poi di movimento dell'anima arriviamo dal minerale poi dal vegetale poi dall'animale poi siamo umani e poi ci evolviamo no? dipende poi la coscienza quindi come dire abbiamo sperimentato però la sintesi è capire è che noi abbiamo un tempo tu hai figli Sara? no ne ho persi tre io ho due figlie quindi nella data di mia figlia quella più piccola c'è già la mia di partita è già scritto quando io me ne vado veramente? è un punto di vista non sappiamo se è la verità è un punto di vista wow quindi noi lavoriamo su un albero il nostro albero arriva da molto lontano perché immagina che se andiamo indietro solo di sei generazioni si parla di un milione di persone tra incroci e contro incroci quindi zero raccoglio negativo arriva dall'Africa dalla Siberia dall'India come dire mi sono mosso la mia stirpe si è mossa no? cambiando in continuazione poi padre e madre genetica grappolo certo quindi devo sistemare dei compiti l'anima si è in possesso del corpo dopo 21 giorni perché devi sistemare dei compiti io la leggo così per me diventa eccitante perché devo portare armonia dentro la mia persona se no quello che non trasformo lo do alle mie bambine certo hai ragione perfettamente chiaro allora c'è un contadino qua intorno di cent'anni che lui ha gli alberi delle mele qua intorno qua vicino Bolzano lui le mele lì hanno proprio la qualità per le mele quando un albero fa le mele non buone prendono la mela non buona e la portano sotto l'albero che fa le mele buone e fanno lo scambio quindi si passano le informazioni le piante ma dai che bella questa cosa e quindi come dire è sempre una questione di semina di raccolta quindi il maschile ha un suo progetto il femminile ha un suo progetto ma questo è l'amore perché uno più due fa tre bellissimo ma quindi tu praticamente dici che una persona nasce con un certo un certo numero nel nome cognome e una certa data perché ha un progetto un compito che eredita è un progetto da portare avanti giusto e quindi è tutto codificato tutto codificato ma secondo te il tuo corpo non è codificato? ah sì ovviamente basta che una cellula si sposta sai che casino? sì infatti quindi tu vivi noi viviamo con noi stessi ma non sapevamo neanche chi siamo quindi viviamo di relazioni ereditate quindi conflittuali perché sai come diceva il saggio e dopo i confetti i difetti e quindi questa relazione due persone che si incontrano magari si abbracciano ma dopo una relazione secondo la matematica matemagica perché mi sono fatto il mio marchio dura se due persone sono capaci a parlare dura tre, sei, nove anni non di più ah e dopo? e dopo se ti evolvi il tuo seme si evolve e cresce bene se no è un incontro fra due tossicodipendenti quindi due persone malate che si incontrano per paura di stare da sola stanno insieme dentro le relazioni punto ah sì sì questo sì ok quindi la possibilità è l'evoluzione fantastico senti c'è una domanda interessante che mi ha un po' colpito c'è una ragazza che dice credo che sia Claudia ma non mi ricordo che dice se una si è sposata nel 9991 che senso ha? ha un senso per una data universale però noi siamo come un calendario abbiamo un nostro calendario personale interno sì quindi essendosi sposata 999 no 91 di 9 1991 guarda quanti 9 c'erano tantissimi quindi è come è tutto per aria niente per terra ah wow perché dici che non è tutto per aria? e poi guarda c'è un filo che si collega con un contenitore sopra è tutto per aria non c'è niente per terra non a caso allora se tu fai un percorso spirituale è perfetto ma se no sono quei matrimoni pindarici come dire siamo o se no lei sarà carica di responsabilità farà da badanti a lui perché comunque il 9 rappresenta la connessione col campo con l'amore quindi fa tutte le cose per l'altro non per se stesso non ti dico quando mi sono sposata io ecco poi mi sono anche divisa quindi va bene così abbiamo già la risposta scusa quanti anni sei rimasta insieme? sono rimasta insieme dunque 4 di matrimonio e 3 di fidanzamento vedi 4 più 3 è 7 è proprio il 7 il salto della coscienza è il classico sì 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 ma il 7 il 7 io penso che parlo per me che poi io faccio arte quindi l'emozione del numero che mi martella in continuazione poi la mia meditazione dinamica ok l'ho visto che lui sta battendo in continuazione creo creo però la sintesi è così lo ascolto quando faccio la scultura sto dentro 3 mesi 4 mesi 6 mesi un mese dipende l'emozione che mi dà però sento però devi fare una distinzione perché se andiamo indietro di 2800 anni fa quindi così dicono Pitagoro aveva aperto la scuola pitagorica a Croton Crotone Croton quindi lui è arrivato così dicono siccome come faceva comunicare in greco non lo so però non c'erano le vocali consonanti lui comunicava con le forme quindi la sua scuola era iniziatica e chiedeva alle persone di stare in silenzio 5 anni wow perché tu dovevi sentire e telepaticamente parlare parlavi con la ghiandola pineale o con il magnetite perché intuivi certo immagina adesso queste forme queste forme sono diventate i vocali consonanti quindi come dire io ho un nome ma non so neanche chi è ho un cognome ma non so neanche chi è ho una reinastra quindi viviamo all'oscuro a meno che poi uno sai tu fai dettagli quindi sono delle tecniche di canalizzazione credo giusto certo anche sì sì ovviamente sì sì tutto basato sulla connessione certo immagina che il 9 siccome rappresenta un campo si chiama il filo d'Arianna c'è un filo che mi collega con un campo sopra filo d'Arianna quando il principe dice alla moglie facciamo un bambino nasce il minotauro quindi lui è rimasto incasinato con quel progetto ha dovuto creare un labirinto mettere il minotauro dentro e poi è arrivato questo guerriero che doveva sconfiggere il minotauro ma lei Arianna si era innamorata del guerriero quindi gli dà il filo il gomitolo per far sì che lui trova l'uscita per tornare sì perfetto in sintesi in sintesi però noi abbiamo tutti il filo d'Arianna perché dobbiamo uscire dobbiamo sprogrammarci a un sistema questo è interessantissimo mi piace molto questa idea che voi lo fatti io e quindi mi intriga tanto però la cosa interessante per me parlo per me che quando parlo di numeri svavo quindi sono eccitato perché aveva una potenza esagerata e parlano logicamente della nostra vita quindi se vuoi mela semine mela se vuoi pera semine pera se vuoi cocco semine cocco tutto nel seme maschile quindi tu cosa vuoi devi farti la domanda cosa vuoi e quello che vuoi semini ma cosa semino è quello che vuoi tu immagina che io ho incontrato il maestro trabuio il 27 marzo 2008 il 27 che la somma è 9 e l'ho capito dopo questo quando tu incontri una persona puoi già sapere cosa raccoglierai dopo 12 mesi e beh questa è una gran cosa sì perché tu nell'universo farai esperienze con persone che ti vorranno elevare ed alcuni ti vorranno schiacciare ma questa è esperienza certo quindi attraverso il giorno di incontro tu puoi già capire come andrà se hai una base numerica chiaro perché fondamentalmente ok immagina che adesso se io parlo di Sara Verderi e quindi le vocali è l'anima che si muove perché perché sono armoniche a e e i quindi questa è l'anima sta suonando sta cantando l'anima che bello questo suono mi piace anziché fare om ah bibing aha ehehi aha ehehi aha ehehi aha ehehi oh Giraldo non ti sentiamo più e quando tu canti tu una slide ecco ti ci sono ti abbiamo perso un attimo sì sì ho visto stavo dicendo che quando tu canti e vibri in quella condizione perché la vibrazione noi siamo fatti di luce e di suono quindi la luce che entra negli occhi decodifica la parte più buia del cervello quindi la scatola nera dietro la mia nuca e mi fa vedere la realtà ma la realtà è luce quindi devo capire gli incontri che faccio perché sono tutti in espansione se cresco se non sono in contrazione se mi lamento perché farò la vittima carnefice chiaro sono due esperienze dell'uno devo sperimentare la vergogna la rabbia la passione la gioia il fallimento è un'esperienza costante noi siamo artisti dentro un teatro noi siamo tutto quindi faremo gli incontri determinanti per la nostra crescita sì Gerardo io allora ci sono persone che vorrebbero fare delle domande vorrebbero portare i numeri siccome sono le 9 e 10 io tra l'altro non so se possiamo andare avanti magari un pochino in più oppure se dopo di noi alle 9 e 30 c'è qualcun altro non me lo ricordo qualcuno me lo può dire eventualmente perché se se alle 9 e 30 dobbiamo smettere mi sa che cominciamo a fare esempio però però scusa volevo dire una cosa sì la differenza è capire che le vocali e le consonanti sono due famiglie distinte ok perché una una parte delle vocali ci vorrà far realizzare col cuore e un'altra parte ci vuole far realizzare con la materia quindi queste sono le due parti dell'uno devo capire dove mi realizzi perché è già scritto dove ti realizzi è già scritto che il pelo farà il pelo il melo farà il melo è già scritto che l'organo il fegato farà il fegato il culo farà il culo non c'è nulla vediamo come va è un progetto noi siamo il progetto siamo la divinità che si muove in questo progetto temporale bellissimo allora devi capire però io poi attraverso le mie ricerche e la mia arte perché intuisco poi io costruisco intuisco e costruisco certo ok quindi come dire ho un po' di tensione Osho diceva quando sei arrabbiato puoi spaccare la legna sai quanta energia hai a tua disposizione io ho fatto una pistola da 4 metri volevo ammazzarne 2-3 però vabbè un'altra volta perché tornerai sicuramente ci fai vedere le installazioni quelle gigantesche sì 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 tranquilla però sicuramente ok io se adesso giro il telefono e parlo però non ti vedrò più quindi vedrai la mia mano parliamo di un nome solo di un nome perché già immagina che dal momento che vieni al mondo tua madre come tutte le madri di questo pianeta gli passano un dolore o una gioia dipende se la madre sta lavorando sì o no sì della relazione che ha col padre quindi col compagno no sì padre padre del bambino compagno suo ok immagina che in questa relazione lei gli sta spiegando amore guarda in questa relazione è così e così è così e così questo è il nome che gli viene dato perché avrà un programma in quella relazione interessante bellissima questa cosa che hai detto stupenda sì perché devi pensare che noi siamo dentro un piano materiale dove ci sono dei compiti perché la terra ha quattro compiti quindi dovremmo conoscere dimmi dimmi no nel senso che io ti farei parlare per ore però abbiamo più o meno 15 minuti vuoi fare io giro il telefono no tu dimmi poi come se l'ho messo vediamo se riesco a capire guardo anch'io un attimo aspetta un attimo qui è storto è storto sì no mettilo in un foglio sì ma è storto no ecco da altra parte l'abbiamo provato prima aspetta che provo così allora provo così vediamo se ci arrivo così ecco perfetto questa è la direzione giusta ah no tu sei in orizzontale però mentre il foglio è verticale verso la tua destra ecco perfetto così bravissima perfetto bene allora lo vedi il foglio sì cosa vuoi il nome o una data no no il nome il nome vediamo allora il primo nome che arriva chi vuole essere letto vediamo ragazze la prima che arriva la prima che dà il nome Geraldo la legge Carmen eccola Carmen Dragonetti Carmen lo vedi il nome sì benissimo vedi che qua e questa è materia c a r m e n sì quindi attraverso la matematica la prima domanda che ci si fa è che compito gli viene dato sì vedi vedi questa c sì questa c questo è impregnante nella nostra vita perché questa viene battuta quindi come nasce Carmen 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 lei porterà a casa subito la c la c vedi è un messo in tre perché c'è una mappa come dire le note musicali per suonare la chitarra ti servono le note musicali sì quindi vedi 3 1 9 4 5 5 quindi la domanda è chi è chi è Carmen 3 4 13 17 22 27 vedi che parlavamo del 27 sì infatti quindi quindi Carmen siccome vedi che c'è un filo che la collega con un campo il suo unico senso è l'altro dare all'altro insegnare all'altro portare coscienza all'altro ma prima a se stessa ok però vedi dai 0 ai 27 anni lei vivrà solo per aiutare la madre sistemare la famiglia senza che lo sa wow perché lei partirà così difficoltà nella comunicazione non mi sento amata padre assente carica di responsabilità casino in questa famiglia ok cambio casa l'unico senso è rompere le regole cambio 27 anni quanti anni avrà Carmen non lo so quanti anni hai Carmen Carmen ti sta dicendo vero 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 perfetto tutto quanti anni hai Carmen aspetta un attimo che risponde vero vero continua a dire vero vero ah 42 mi sa ok adesso quindi adesso è in questa fase l'albero ha finito ricomincia da capo perché l'albero ripeterà farà sempre quel ciclo non cambierà mai lei deve cambiare quindi uno ripete da capo si ricomincia sempre da capo ah wow ok logicamente con un'esperienza diversa perché i primi 27 anni mi sono serviti a capire che non ho capito assolutamente niente e quindi chiudo un passaggio si dai ce ne servono anche un po' di più però vedi che lei siccome l'unico senso vedi che è composta da un 2 e da un 7 si questi gli stanno dicendo già lei dove si realizza eh ecco logicamente se non capisce i numeri però vedi che adesso lei è in questa fase dentro la M dove questo qua questa M gli sta dicendo guarda che stai ripetendo un'esperienza che andavi dai dai 3 dai ha detto che ne ha 41 non 42 scusami 41 ah ok perfetto aspetta allora ok dice sto chiudendo ora un ciclo sì sì aspetta un attimo quanti ne ha 41 ok e qui vedi ha chiuso il ciclo adesso ci sarà un cambio ma questo cambio e lei deve risolvere il problema che aveva dai 13 ai 17 anni quindi c'è un cambio dentro le quattro mura come se adesso diventa prioritario per lei mettere i piedi per terra avere le idee chiare nelle quattro mura di casa chiare nelle quattro mura lavorative perché qua adesso c'è la materia che gli sta dicendo si chiara si ordinata datti valore wow ha detto che è vero 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 tutto quindi se i numeri sono messi lì da 40 anni capisci che hanno una funzione perché lei parte difficoltà nella comunicazione non mi sento amata fino a che lei non amerà se stessa questo avrà questa funzione quindi possiamo dire che lei ferma dai 3 ai 4 anni interessante e questo sì perché questo sarà un tasto molto forte quindi difficoltà nella comunicazione ma la sua forza sarà proprio la comunicazione dipende se lei tirerà via le maschere perché parlare per lei ma arriva da arriva da un problema genetico perché in quella famiglia magari cent'anni fa hanno parlato e hanno creato caos ti dico Sara sai che tuo marito l'ho visto che si abbracciava con tua sorella cosa fai tu vai e ne ammazzi 2-3 quindi è un problema la comunicazione se non stai attenta a comunicare ah Carmen tra l'altro dice sono una psicologa pensa a te perfetto perché l'unico senso è proprio di se ne dare agli altri ma adesso vedi questa psicologa l'unico senso è darsi proprio un ordine un valore c'è anche un cambio quattro mura quindi come dire adesso è un metodo quindi vuole studiare avanzare perché quattro è colui che deve costruire deve avere regole metodo disciplina certo bellissimo wow molto bello vuoi un altro nome? dammi un altro nome un altro nome allora Carmen ti dice di sì ok allora il prossimo nome ragazze o ragazze chi vuole primo nome che arriva vediamo aspetta tra l'altro dice che sta per cambiare lavoro quindi oh madonna aspetta un secondo Sara Sara Pagone Sara Sara vedi il nome Sara come il tuo è corto sì e questo siccome Sara 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 a livello anche fonico Sara questo è il dolore che gli passa la madre col padre è un dolore della madre che glielo passa a lei quindi parla conflitto col maschile 1 1 9 1 vedi quanti i numeri 1 ha che la somma è 12 come il tuo no quindi il programma di conflitto che gli passa la madre è l'1 il padre gli dice amore sono in difficoltà con tuo padre o sono in espansione dipende se la madre stava lavorando però lei vedi che è in carico il 12 come se lei l'unico senso di lei se capisce che dopo le sfide c'è l'amore incondizionato che è lei perché questo nome questo si evolve in 27 anni Carmen questo 12 anni è il cricetto che gira nella ruota in continuazione quindi l'unico senso di Sara la conquista non ha altri sensi wow perché questo è l'uno il conquistatore tutto parte da lui dall'uno perché è l'antenna vedi la spina dorsale ricevo informazioni dall'alto le canalizzo dentro la mia spina dorsale le porto dentro di me tra l'altro lei mi dice vero vero Sara sta dicendo malata di sclerosi multipla gravemente malata sottomessa da papà mia mamma non ha mai lavorato vedi vedi perché quella S quel dolore ti porta a cercare perché se pensi di essere vittima tu diventerai vittima e ci sarà sempre il carnificio allora dice come posso conquistare la mia libertà con una mamma malata e sottomessa allora io non sono psicoterapeuta io amo i numeri quindi posso dirti che però i numeri vedi il tuo tempo vedi i dolori che hai addosso vedi le virtù vedi le realizzazioni è una questione di ricerca perché la sclerosi multipla ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va che devi sistemare credo che ce l'abbia avuta la mamma se ho ben capito la mamma malata malata domessa al papà ecco però lei vedi dove si realizza nel 12 e quindi devi capire che cos'è la bambina che gioca senza maschere che è chiara nella comunicazione che non mette le maschere per pensare agli altri quindi quando mi guardo allo specchio amo me non amo qualcuno che mi dice brava perché sono ancora dentro la richiesta affettiva certo e quindi darà tutto all'altro con la speranza che mi dice brava quindi sto dando potere all'altro ma non a me ma l'altro non esiste eh sì bello molto bello ok questo numero che chiede velocità chiede perché ha un cambio 12 24 36 48 abbiamo già delle tappe no sono già disegnate le tappe come adesso siamo in tre giorni quattro giorni nella primavera sono delle tappe delle tappe già chiare per tutto il pianeta ti ringrazia vuoi un altro nome se vuoi dammelo sono qua Maria Grazia Maria come si fa chiamare Maria o Grazia non lo so Maria Grazia di Leonardo come ti fai chiamare Maria o Grazia c'è una domanda che ti dico intanto che mi risponde dice ma quindi le persone che hanno lo stesso nome più o meno hanno la stessa cioè hanno le stesse no poi probabilmente dipenderà dal cognome anche brava però la funzione di quel nome è uguale poi dipenderà dal cognome la data in asita però il contesto il contesto cioè l'albero di mele farà mele poi sono rosse gialle ma mela e quindi devo capire comunque il contesto familiare e anche la data in asita il nome rappresenta le soluzioni ai problemi che la vita ti darà ok perché se sono fatto con le lacrime gli occhi piangono vuol dire che qualche lacrima dobbiamo versarla prima magari di dolore poi di gioia ok senti io ho chiesto a Maria Grazia se mi dava il nome se si fa chiamare o Maria o Grazia ma non mi risponde non ha capito e allora facciamo Maria dai Maria Mericardia Maria Maria vedi 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 m m questo m rappresenta proprio lei ragionerà sempre con l'm quindi lavoro fatica lavoro fatica se si stuferà questo parlerà di metodo di crescita deve portare dal meno al più perché questo qua rappresenta l'unico senso di questo è metti vivi per lavorare metti da parte che non si sa mai domani queste sono memorie di povertà conflitti entro le quattro mura di casa fallimenti che riceve ineredità come valore dipende dipende perché adesso sto leggendo in velocità quindi per fare la lettura servono giorno mese anno nome cognome da lì vengono fuori dai 54 ai 63 numeri cavoli è un puzzle però questo quattro sarà determinante se lei si darà valore se no rimane scacciata nella fatica wow 5 14 23 24 non solo vedi vedi che ci sono due o quattro sì ok vedi che il 2 che rappresenta il femminile è come dire il problema che mi passa la madre perché noi siamo in gestazione arriviamo dal profondo della madre siamo collegati con la madre il padre nella natura biologica non esiste vedi che c'è un 24 e la sintesi è l'informazione che riceve a livello inconscio perché nella sua nella sua discendenza quindi la madre o la madre di sua madre la nonna è stata messa da parte per un'altra donna c'erano due donne dentro le quattro mura di casa ah cavole wow interessante questo e quindi lei non si sentirà mai scelta amata perché il massimo dell'amore e non essere scelta hanno scelto quell'altra non me mamma mia forte questo e devi rompere un programma bello molto bello non so se lei lo vive molto bello però come dire però molto bello che emerge no? che almeno una cosa emerge uno ci può lavorare guarda il numero è di una potenza perché tu poi sai qual è il tuo compito vedi come lei vedi la forma del 6 vedi la forma del 6 c'ha un gancio qua lo vedi sì e lui e lui oscillerà dentro nella relazione un po' di qua un po' di là un po' di qua un po' di là non si sentirà amata sarà oscillante ma l'unico senso di questo è 15 carpe diem fai quello che ti fa star bene ma non posso farlo perché se io faccio quello che sto bene poi tu soffri quindi mi metterò in croce per te perché poi lui arriva dal 33 madonna quindi è proprio un ping pong un'oscillazione continua sto parlando che non c'è nessuna verità è solo un punto di vista certo certo bellissimo allora come si rompe questo programma e ragazze bisogna lavorarci su come giustamente Gerardo dice bisogna uscire dai programmi lavorandoci su uno poi può usare tutte le tecniche che vuole certo dal momento che tu ti innamori di teta healing psicocinetica cibernetica devi innamorarti di qualcosa devi cambiare il punto di vista del programma perché noi possiamo abbiamo la capacità quando siamo nel dolore di deprogrammarci ma devo vivermi il dolore devo stare dentro il dolore vibrare perché non è mio tutte le informazioni che noi stiamo vivendo per chi non si è cercato non sono nostre sono state ereditate certo non sono mie io rispondo in base all'automatismo che mi hanno insegnato i miei supereroi che sono mio padre e mia madre eh sì è proprio così senti allora Gerardo ci manca un minuto io ti direi di ritornare in camera eccoti allora le tue letture sono state fantastiche le ragazze sono piaciute tantissimo e mi stanno tutte chiedendo allora se tu fai consulenze private quando ritorni a fare un'altra diretta Sara mi invita mi sono qua io sono fortunato perché mi sono cercato dopo il fallimento io ho capito le mie forze quindi quando sono in fase creativa creo però ho capito che lavoro tre giorni al mese quattro e ho 26 giorni per me per bellissimo sì però per capire questo ho fatto il depresso ho perso tutto in mezzo a una strada con due figli e mi sono chiesto dove ho sbagliato e allora la sintesi è la domanda sarà che donna vuoi essere che uomo vuoi essere perché la domanda la risposta ti verrà data a un certo punto della tua vita perché hai una buona domanda solo se hai una buona domanda puoi avere una buona risposta è vero è tutta una questione di domandare le cose giuste sì e poi andrà in gioco quello che ti seguire è che secondo me e tu sei curioso sperimenti si chiama cerca la tua identità e quindi devi capire per me dico guarda che ho solo visto che uomo volevo essere l'ho capito 45 anni però l'ho capito eh sì bene bravo complimenti bellissimo e si vede comunque che l'hai capito l'unico senso tu pensa che l'unico senso è la vita è la bellezza già alzarsi la mattina a dire oggi sarà una giornata in bellezza sono in piena fiducia con la bellezza della vita già ti cambia il respiro il tuo cuore dice cazzo non era ora perché se ti lamenti in continuazione tu porti fuori merda e raccogli merda è vero è verissimo bene allora senti dunque le nostre ascoltatrici ti possono trovare su facebook giusto allora ripetiamo il nome Gerardo La Fratta quindi Gerardo Gerardo con la L Gerardo ho detto Gerardo ah scusa mi ho sbagliato no ho capito Gerardo no io vabbè comunque forse mi sono sbagliato non lo so comunque Gerardo La Fratta è peccato e io sono matematica c'è scritto l'atelier di Thor perché Thor mi ordina delle opere e io le faccio ok e ovviamente aveva il martello magico e quindi siamo perfettamente in linea sì 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 adesso ne farò uno alto sette metri nel mio giardino nel rettangolo aureo quindi come dire fantastico bene allora noi ti aspettiamo al più presto su Bridges di nuovo e nel frattempo ti ringraziamo ti ringrazio personalmente è stata bellissima è stata veramente una diretta anche molto poetica molto toccante quindi ti ringrazio infinitamente e spero che tornerai a trovarci molto molto presto Sara tu hai a parte che sei fortissima con il tailing ma tu quando sorridi inneschi la guarigione automatica quindi quando vuoi Sara va bene grazie infinite grazie a te che mi hai accolto in questo grazie a chi ha ascoltato le mie fantasie erotiche con i numeri ok allora grazie a tutti ragazzi lasciamo spazio alla nostra prossima relatrice intanto salutiamo Geraldo con tanto amore e ci vediamo prestissimo ciao ciao grazie Sara baci grazie ciao a tutti ciao grazie a tutti ciao ciao ciao